Probabilmente lo faremo prima della fine del tour, Tavomira, io già sono natale, non posso dirlo, però. Comunque Tavomira è un po' l'idea, no? Perché partiamo da 3.000 metri e arriviamo a zero in Sicilia, quindi leghiamo l'Italia. Ok? Questo passerà anche per Napoli. Certo che passano per Napoli, quello che... Ti volevo fare una domanda, questo... Spero che io sono l'interista napoletano. Il mio figlio che un altro giorno, quando sono tornato da Sanremo, arriva, sono peccato, è una febbre pazzesca.